Sindaco, il cartellone è pronto, cosa prevede l'estate canicattinese 2016? Il cartellone è pronto, inizia il 6 agosto per concludersi l'11 settembre, prevede tutta una serie di iniziative che interesseranno l'intero territorio cittadino, quindi dislocato nelle diverse zone della città, dal centro storico al centro urbano, la villa comunale, via Carlo Alberto, delle iniziative che sono state messe a disposizione gratuitamente da tutte le associazioni e quindi nei cui confronti rivolgo il mio ringraziamento per l'impegno che hanno profuso in questa iniziativa che abbiamo chiamato Restate in città. L'intendimento è proprio di favorire la permanenza in città dei nostri cittadini e l'ospicio di coinvolgere quanto più gente possibile dei comuni vicini per visitare canicattini. Facendo i calcoli con le risatezze economiche del comune, quanto costerà al comune, all'ente questa manifestazione? L'ente costerà quasi zero, nel senso che noi metteremo a disposizione la logistica, quindi il palco, le sedie e naturalmente il servizio da parte della Polizia Municipale e degli addetti alla manutenzione, ma con risorse assolutamente minime, garantiremo oltre un mese di iniziative. Assessore, è un lavoro sinergico, un lavoro anche faticoso, però alla fine si è riusciti ad allestire un programma con l'aiuto delle associazioni locali, con la buona volontà di tutti. Sì, in effetti è stato un lavoro abbastanza faticoso, però devo dire ricco anche di incontri e anche di capacità di confronto. Abbiamo trovato grande disponibilità da parte delle associazioni che si sono fatti carico anche delle spese, però hanno mostrato la voglia di intraprendere un nuovo percorso, quello di spendersi per la città, proporsi alla città e soprattutto anche dare l'opportunità ai canicattinesi di passare un'estate alternativa, quella di restare insieme in città e farlo in maniera anche diversa attraverso film, proiezioni abbastanza conosciute o alcune rappresentazioni teatrali, presentazioni di libri di autori sia canicattinesi che anche di luoghi vicini. E devo dire anche ci saranno dei gruppi locali e non che fanno buona musica, ma tutto questo sarà accompagnato da un percorso di luoghi diverso per dare la possibilità ai canicattinesi di uscire e di riappropriarsi della propria città, a chi viene di fuori di conoscere anche luoghi e posti che sono avvolte ai margini, tenute ai margini di questa città. L'intento in futuro sarà quello di ridare spazi e luoghi puliti e soprattutto grazie anche ad un'opera fatta insieme all'assessore all'urbanistica, di ridare alcuni luoghi, restituire alcuni luoghi alla città e ai cittadini con l'auspicio di viverli e quindi viverseli in prima persona. Questo fa parte dell'assessorato alla cultura ma fa parte soprattutto di quella che è la nostra città, Canicattì.